Ho visto The Animal Kingdom, film del 2023, che appunto è stato presentato a Cannes dell'anno scorso nella categoria Uncertainly Guard, è stato il film d'apertura, se ne è parlato tanto, è questa sorta di film fantascientifico, drammatico, era incuriosito perché anche per essere un film di quel di Cannes era particolare, parla di questo mondo in cui ci sono mutazioni che si diffondono come fosse una malattia, umani che diventano animali man mano, e questo padre e figlio si avventureranno diciamo in qualcosa di più grande di loro. Ero incuriosito, ero molto incuriosito, film che è stato rimandato parecchie volte qui in Italia, ma finalmente è uscito, vi posso dire che a me è piaciuto con i suoi difetti, nel senso che io da una parte mi aspettavo di meglio, dall'altra sono comunque sorpreso. Questo perché, andiamo con ordine, i pregi principali del film sono sicuramente l'estetica, che è magnetica, che è affascinante, e che trova il suo pregio soprattutto quando si adagia sull'ambiente circostante, basti pensare alla natura, agli alberi, alla quiete notturna, come fanno notare anche loro, e anche gli attori sono davvero bravi, e un applauso anche, credo vada detto, ai truccatori, perché va bene, ci sono alcuni effetti speciali, ma molto è fatto anche di prostetica, e infatti qui è fatto davvero bene, è fatto davvero benissimo a livello estetico. Quindi un film che sicuramente a livello tecnico vi sorprendere, vi piacerà, ma ha anche molti pregi a livello narrativo. La storia è molto più semplice per altri versi, nel senso che alterna di momenti molto più riflessivi a momenti molto più classici. Per me forse il problema del film in sé effettivamente sono quei momenti molto netfixiani, tra virgolette, ecco per dire, quando ti mostrano i giovani che fanno i giovani in certi momenti, e cade un po' nel cliché, perde quella sua unicità narrativa di questo mondo diverso, che ci ne mostrerò, che ricordo un po' magari quello di The Lobster, però in questo caso è affettivo quel mondo, non è affettivo come quello di Lantimos. Diciamo che spesso può evidentemente scadere un po' nel già visto, nel va bene, questa dinamica è evidente, questo accadrà, ma per il resto, anzi, riesce a trovare il suo punto di forza proprio quando trova la sua linfa vitale personale e si distanzia dei paragoni con altri film, quando riesce a mostrarti il rapporto tra padre e figlio, il disagio della crescita, un film che mi ha messo dannatamente a disagio, non solo per le immagini che vedevo per la body horror, per quanto non te la buttino mai davvero in orrore vero e proprio, è paura della crescita, io sono un adolescente, sono in un periodo di crescita e ho potuto accostarmi al protagonista proprio perché è un po' pubertà, è un po' accettazione di si stessi, c'è un ibrido chiamato Fix, che è un personaggione, che è una bella evoluzione e che serve per far conoscere la propria vera natura al ragazzo protagonista. È questo film a tutti gli effetti un coming of age, un film sulla presa e la maturità in un mondo in cui la società sta cambiando, sta derivando, noi potremmo paragonarlo un po' al nostro Covid, per quanto qui c'è anche un po' la spunta di razzismo, un po' di classe, c'è molta attualità all'interno di questo film. Videi il trailer con dei miei amici quando andavo a vedere un altro film un paio di settimane fa, i miei amici dissero proprio a X-Men. Ecco, è un po' un X-Men più autoriale, molto più affascinante, perché c'è anche di simile orrorifico la perdita del parlare, la perdita degli arti, la nascita, la nuova trasformazione, questo riscoprire loro stessi, che è una cosa che proprio fa paura anche solo a pensarci, anche solo a pensare, possa accadere ai nostri cari, a qualcuno attorno a noi. E il contesto in cui il nostro protagonista è calato, in cui tutta la sua famiglia allo stesso tempo è calata, ci sono dei momenti davvero toccanti anche a livello di dialoghi. Come ho già detto, il film nella prima parte è davvero eccelso, un filmone. La seconda, c'ha quei problemi, che non sono nemmeno problemi, ma sono quegli stilemi già visti e rivisti che mi fanno un po' cadere l'originalità. Ma per il resto, comunque, ragazzi, io non posso dire che non sia un bel film, è davvero un bel film e sicuramente dei prodotti che sono in sala in questo momento è la proposta che consiglio di recuperare, anche perché è magnetico nelle sue scelte. Quello che tanti altri film avrebbero dovuto fare riesce qui, anche grazie alla bravissima e bellissima regia, alla regia in generale anche del lato tecnico, anche degli attori del regista Thomas Kelly, se non sbaglio, riesce appunto a trascinare i suoi meandri, anzi, avrebbe voluto ancora di più, perché secondo me le scene migliori sono proprio quelle della foresta. A una certa, nella foresta, i personaggi smettono di parlare, si vive, si esperienzia, e c'è un momento in questo film che dura all'incirca un cinque minuti, muto, silente, in cui tu riesci a vedere tutta la cattiveria dell'essere umano nei confronti degli animali e dell'altro creato. Quindi è un film sicuramente interessante, ha delle trovate davvero, davvero notevoli, io vi consiglio assolutamente di recuperarlo. Ha qui nemmeno difetti, quelle trovate che tu dici va bene, questa è un po' più classica, va bene, so già come andrà a finire, però soprattutto a livello di film sulla maturazione o a livello di film sull'accettazione della società odierna, ha un messaggio molto importante e trova la sua forza anche molto nell'emotività, nel nucleo familiare, nel rapporto tra questo padre e figlio che hanno già perso la madre, non vi dico cosa è successo, e temono che, si teme che il figlio possa essere anche perso. E' un film sulla libertà, sulla natura, che sfrutta la bellezza di questi posti enormi, giganteschi, immersi nel verde. E insomma, effettivamente questa grande foresta che confina con questo paesino è un po' quello che è il lato psicologico del film, è un po' quello che sta nel cervello del protagonista, il fatto che lui debba semplicemente abbandonarsi a quella che è la sua vera natura, la sua natura più nascosa, forse dovremmo abbandonarci tutti a quella che è la nostra natura, quindi che dire, ha quei momenti a Teenage Movie, come sto già ripetendo, ma sicuramente riesce a contestualizzarli bene, in una storia molto più intimista di quanto può sembrare sulla conoscenza di noi stessi, cosa che forse nella società di oggi servirebbe. Fatemi sapere la vostra su questo film, io ho fatto questa breve recensione di Valeri a Caldo, e noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando recuperatevi perché per ora, a quanto sto vedendo, è quello che assolutamente è più interessante delle uscite proposte. Ciao!